buonasera ragazzi questa sarà per me una serata veramente speciale perché domani è sabato e abbiamo intenzione di andare via col camper però ho anche avuto la brillante idea di sistemare il pavimento per il freddo quindi cosa succede che mi trovo in questa situazione un gran casino nel camper con la moquette ora so che bisognerebbe fare con la carta bisognerebbe fare un dima e poi una volta che si ha tutta la misura e la forma di tutto il camper per terra si va a tagliare la moquette il problema è che non ho tempo di fare tutto questo e quindi di mano in mano che la monto la taglio rispetto a farlo prima in cartone poi andarlo a tagliare mi risparmio tempo e soprattutto cosa più importante di mano in mano la faccia la taglio e una volta che ho finito il lavoro è già a posto di fuori sta piovendo è notte e quindi non mi posso mettere lì a fare tante casini con la carta quello e l'altro ovviamente tutti starete pensando se lasciamo perdere e lo facevo un altro giorno era meglio e questo si sa è ovvio però se io non mi vado a complicare la vita non mi piace non c'è gusto questa è una bella sfida e voglio vedere se ci riesco male che vado domani mattina se non ce l'ho fatta prima di partire cavo tutto questo ragazzi è la sfida delle sfide riuscire a montare la moquette in un camper senza dima in una notte il problema è fare un bel lavoro la sfida delle sfide ci riuscirò cerco di farvi capire un po quello che faccio allora sto tagliando vicino al bordo e cerco di andare quanto più possibile dritto poi qua non lascerò molto probabilmente così per il momento e invece qui all'ingresso l'ho già fatto passare sotto tutto in maniera che non scivoli più e questo è un po il risultato finale poi valuterò un domani se voglio tenere fisso la moquette di fargli un bordino oppure molto probabilmente la lascio così buonanotte visto che costa una cavolata e almeno quando si sporca la cavolo a riscopulire bene e a lavarla senza fare troppa 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 fatica e questo è un po il risultato una bella moquette grigia che ci sta da dio con i cuscini sul grigio scuro ma vi voglio far vedere poi il risultato finale che non è questo ok come procedono i lavori procedono alla grande sono le dieci e un quarto ho iniziato più o meno alle nove quindi è circa un'oretta che ci lavoro è ovvio che senza fare una base tutto quanto è un po più fatica però vi faccio vedere un po come sta venendo adesso è buio non non rende però io dico che viene alla grande sta venendo da dio da dio allora il problema più grosso il problema più grosso era qua vicino alla stufa perché io pensavo che qua sotto non scaldasse per niente infatti quest'angolo qui è freddo completamente freddo anche qui è tutto freddo qua invece vicino alla fiamma inizia a scaldarsi e sotto dove ci sono i piedi dov'è che la stufa è fissata al pavimento quella scotta allora io per paura diciamo per stare tranquillo a dormire sono i tranquilli l'ho tagliata veramente larga la moquette in modo che qui ci rimanesse lo spessore vedete di un dito tranquillamente anche più e quindi che questa qui non andasse appoggiare per niente nei piedi neanche per sbaglio da sopra non si vede ma se uno si abbassa o si guarda di lato lo nota però va bene così almeno dormo sonni tranquilli comunque come vedete tutta sta zona qua è stata fatta ho fatto anche qui sotto i bordi sono venuti benissimo e vado bene insomma l'estintore serve per fare da peso in modo che la moquette non mi si muova e rimanga fermo non è che serve perché avevo paura che prendesse fuoco serve solo come come peso come contrapeso e sarebbe bene metterne tanti di pesi quando si fa questo lavoro in modo che così la moquette non si muove ok gente sono le 10 e 40 e come vedete ho finito quindi è assolutamente possibile montare la moquette in una notte in una serata e dormire all'interno del camper perché ciò che farò io stasera ma come è venuto il lavoro ho visto che l'ho fatto molto di fretta il lavoro è venuto così questo è l'ingresso come vedete l'ho fatto passare sotto ai vari profili di alluminio l'ho fatto passare tutto sotto al frigorifero sotto nella dinette questo è come è venuto la dinette io direi che è venuta molto bene sì è vero ci sono ancora degli errori però va benissimo insomma questo è come è venuto attorno al frigorifero parte qualche piccola sbavatura ma va benissimo poi questo è tutto il resto del camper come vedete da sopra non si vede l'ha fatto della stufa e qui si va avanti qui e siccome avevo tutta la moquetta mucchiata nel tagliare ho fatto qualche errore però questi errori si possono tranquillamente coprire come si coprono mettendo un profilo al che fa tipo battiscopa ok se io metto un profilo al tipo battiscopa con alluminio satinato tutti i bordi rifiniti male le vado a coprire senza problemi l'importante a me era per me era che non desse fastidio alla stufa quindi va da dio insomma è un'altra cosa importante che io possa camminare scalzo senza congelare comunque questa è la parte dietro quindi è venuto bene dai per essere fatto in fretta senza senza aver fatto neanche un minimo di sagoma aver tagliato tutto sul posto io direi che il risultato è più che accettabile quanto mi è venuto a costare fare questo lavoro questo lavoro e mi è venuto a costare la moquetta mi è venuto a costare 30 euro quando sono andato a comprarla ma avevano detto che costava all'incirca 5 euro a metro quadro ma poi quando sono andato a pagarla invece l'ho pagata 5 euro per due metri lineare per metro quindi non per metto quadro per metto quadro mi è venuto a costare la metà invece di 5 99 mi è venuto a costare la metà quindi due euro e mezzo tutta sta moquetta mi è venuta a costare 30 euro ma me ne è avanzata adesso con quella che mi è avanzata poi vedrò di rivestirci delle altre cose non lo so adesso vedremo però me ne è avanzata 70 io ne avevo comprati 5 metri di lunghessa per due metri di larghezza così è venuto tutto un blocco unico intero tempo di lavorazione abbiamo detto che abbiamo finito all'incirca alle 10 e 40 10 40 compreso di aver messo via tutto aver sistemato tutto in circa tre ore prendendosela con calma e tutto quanto si fa quindi in una mezza giornata la moquetta si monta tranquillamente senza nessun problema io ce l'ho fatta quindi se ce l'ho fatta io ce lo potete fare anche voi naturalmente quello che vi consiglio io e non fate come me io ho fatto per fare una sfida non mi interessava di fare dei bordi tagliati male l'ho fatto abbastanza in fretta però questi bordi per me si riesco a coprire tranquillamente quindi a me non mi interessava e poi soprattutto io non volevo la moquette fissa quindi è una cosa provvisoria che magari faccio giusto per quest'inverno al prossimo inverno poi prima o poi voglio fargli il pavimento serio quindi questa è proprio una cosa molto provvisoria da spendere poco però è una buona idea perché comunque adesso sono scalzo a piedi nudi e non ho i piedi congelati invece prima se io mi muovevo avanti indietro nel camper avevo i piedi completamente totalmente congelati perché il pavimento del camper almeno del mio camper è completamente congelato perché è un camper vecchio non ha la combattazione che deve avere un camper economico e questo comporta anche avere certi disagi durante l'inverno è ovvio che se avevo un camper con il doppio fondo riscaldato non avrei avuto problemi però in un camper economico bisogna cercare soluzioni economiche e 30 euro di moquette montata in due ore e mezzo tre ore è una buona soluzione bene direi che per questo video è tutto quindi ci vediamo al prossimo dove andrò in montagna in cerca di neve quindi al prossimo video ciao io volevo andare cerca di neve invece è stata la neve che è venuta da me guardate come nevica figata guardate che chi fiocchi come nevica bello come nevica sta già iniziando il biancare vengono giù delle robe immense super figata nevica fortissimo bene così oltre a testare la moquette appena montata testiamo anche come si dorme sotto la neve poi non fa tanto freddo perché sono due gradi e mezzo invece all'interno del camper ho 24 gradi